Il vento in poppa spinge, il gravina sul treno playoff, il sogno ora si fa sempre più concreto dopo il successo per 3-2 contro il Francavilla, seconda forza del torneo. Il vento, come detto, condiziona anche il match al vicino ed a sfruttarlo al meglio ci pensa subito Capitano Chiara Dia che dopo neanche due minuti di gioco sigla direttamente da calcio d'angolo il vantaggio di casa. Il duo Sum-Ragone si affida alla verve di Diop in avanti ed è l'attaccante gravinese a ripagare la fiducia siglando poco oltre il ventesimo minuto il raddoppio sugli sviluppi di un nuovo corner battuto questa volta dall'altro lato da Tommasone Diop anticipa tutti e mette in definitiva discesa il match. Tredicesimo gol in stagione per lui e Francavilla in evidente difficoltà. Il tecnico Ragno, infatti, chiede ai suoi di cambiare marcia avanzando Nolè sulla linea d'attacco con Polichetti e Croce ed è il numero 10 Lucano a suonare la carica poco oltre la mezz'ora. Prima impegna Mascolo con un tiro deviato in corner e poi sugli sviluppi disegna una parabola perfetta che Vaugno nell'area piccola deve solo spingere alle spalle dell'estremo difensore ospite. Un primo tempo condizionato dal vento che tuttavia riservano un poche emozioni. Ma nella ripresa c'è ancora spazio per lo spettacolo. Il Francavilla chiude la rimonta dopo 8 minuti di gioco con Capitano Lè che ringrazia la difesa di casa per un pasticcio e batte Mascolo per il 2-2. Ma il Gravina non si disunisce, anzi ricomincia a premere con Chiara Dia vicino al nuovo vantaggio grazie a un sinistro che impegna. Prisco, Tommasone direttamente sul calcio di punizione colpisce invece la traversa d'estremo difensore battuto, Chacon saggia le sue qualità tecniche con un'azione personale e il tiro finale di poco sul fondo. Ma ad un quarto d'ora dal termine ecco il tris di casa. Tommasone in contropiede corre via e serve al centro per la corrente di Hop che non sbaglia in aria e batte Prisco. Le assalti finali del Francavilla sono sterili e il Gravina porta a casa un successo che mancava da quattro partite, il 2-0 contro il Lavello, raggiunta quota 50 in classifica. Ora per i Murgiani il sogno playoff passa anche dallo Stadio Italia di Sorrento. Giovedì prossimo.